Con volti e bussi di Palazzo Lascaris, il Consiglio regionale ha proposto un viaggio alla scoperta degli oltre 200 mascheroni che ordnano le facciate dell'edificio, sede dell'Assemblea legislativa piemontese. Nel volumetto Collezioni d'arte, invece, sono stati illustrati in sintesi i dipinti, le sculture e gli oggetti d'arredo facenti parte delle raccolte d'arte dall'Ottocento ai giorni nostri acquisite o donate nel corso degli anni al Consiglio regionale.